Musica Visto che è un qualcosa che in qualche modo è una forma di violenza, perché comunque mi viene iniettato qualcosa, ho deciso che non era sufficiente quello che me l'ha mostrato da anni. Consigliere comunale dei 5 Stelle di Fano, si rimette, lascia il movimento, sono fortemente contrario ai Green Pan. Green Chaos, Confcommercio lancia l'allarme, è impossibile sostituire i lavoratori che dal 15 ottobre resteranno a casa perché è contrario alla vaccinazione. Ecco la nuova giunta di Mondolfo, firmata a Nicola Barbieri, tra riconferme qualche novità, il 21 già fissato, il primo consiglio. Premiata dal sindaco di Fano, la giovanissima atleta Alice Pagliarini, campionessa italiana nella categoria under 16, negli 80 metri piani di atleta. È stato molto bello e adesso sono molto contenta perché finalmente questa medaglia d'oro sono riuscita a prenderla. Tra poco in diretta su Fano TV torna Primo Cittadino, ospite il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. C'è occhio alla notizia che anche questa sera ha deciso di aprire con la testimonianza, la testimonianza e il racconto di un sanitario, un medico, che è stato sospeso, sospeso perché ha detto no alla vaccinazione obbligatoria. Forma di violenza, perché comunque mi viene iniettato qualcosa, ho deciso che non era sufficiente quello che me ne va mostrato, dato. Precisa subito le motivazioni della sua contrarietà al siero anti-covid. Il dottor Roberto Bocchianeri, 57 anni, aiuto chirurgo presso l'Unità Operativa di Chirurgia Generale all'IRCA di Ancona, così come sua moglie, è stato sospeso dal servizio a causa del rifiuto alla somministrazione del vaccino. Ho contestato altre volte, non lo chiamerei vaccino, ma lo chiamerei terapia genica sperimentale, per cui non mi sono fidato fin dall'inizio, perché nel momento in cui si tratta di fare una sperimentazione, prima voglio essere sicuro, voglio avere la certezza di che cosa mi dovrei fare inoculare, poi dopo nel momento in cui ho le certezze potrei anche accettarla, a questo punto no. Per questa decisione Bocchianeri è stato sospeso ufficialmente l'11 agosto scorso, dopo aver comunicato all'azienda del provvedimento è arrivato dall'Ordine dei Medici, a sua moglie invece è toccato nei primi giorni di settembre. Senza stipendio e ora come riuscite a mantenere la famiglia? Beh, qualche cosina da parte ce l'abbiamo, si tratta di fare sacrificio, però insomma ecco, per portare avanti questa battaglia, che credo sia una battaglia giusta e legittima, siamo disposti a fare dei sacrifici. E poi sperate di riprendere la vostra attività ormai il prossimo anno? Ma io in questo momento ho sospeso qualunque tipo di pensiero, certo, è ovvio che spero di poter tornare a rendermi utile per le persone che stanno male, perché ho scelto di fare questo lavoro e credo di essere nato proprio per farlo, perché non ho mai avuto un dubbio su quello che faccio, credo anche a mia moglie. Quindi siamo intenzionati a tornare a dare il nostro contributo alle persone che soffrono, se ci permetteranno, se ci metteranno in condizione di volerlo fare, altrimenti mi dispiace, ci rivolgeremo a qualcos'altro. Si parla spesso di ricatto, anche lei ritiene che sa qui. Assolutamente sì, questa è una forma di ricatto, perché secondo me, io credo che, al di là di queste fazioni che si sono create, i pro e i contro, io credo sempre che avrei accettato, da sentirmi dire dalle persone, che magari mi potevano dare anche dell'imbecille perché non ha accettato la vaccinazione, però essere uniti perché comunque sia, questa è una battaglia di civiltà. La divisione credo che non porti a nulla, bisogna soltanto essere uniti e combattere insieme. Ci sono anche altri medici o infermieri che seguono il vostro pensiero? Ma certo, sono tanti, non solo, anche coloro che sono stati sottoposti alla vaccinazione o a torto collo, perché non potevano fare diversamente. Ci sono famiglie monoreddito e con più figli, ha raccontato il dottore, ed è ovvio che non possono permettersi di stare neanche un mese senza stipendio, di conseguenza hanno dovuto accettare la vaccinazione. Forse se si fosse dato più spazio all'inizio a spiegare i pro e i contro legittimamente alle persone, potevano accettare serenamente. E poi magari poteva essere un esempio anche per chi non voleva. Credo che sarebbe stata una forma più democratica e avrebbe raccolto in maniera più serena tutti quanti quelli che sono stati vaccinati. Invece ora si è creata una divisione, una separazione che non porterà, secondo me, a nulla di buono. C'è stato in questi mesi qualche episodio particolare che avete vissuto? Beh, sì, sicuramente quello che è stato probabilmente è paradossale, più che il fatto che sia stato a novembre del 2020, mio figlio ha preso il Covid, fortunatamente una forma che in due giorni si è risolta, febbricola, però in quel periodo la mia azienda mi ha praticamente precettato, cioè sono stato costretto a venire a lavorare. Allora la considerazione che faccio è, se quella volta non ero pericoloso, credo di non essere pericoloso nemmeno adesso. Se adesso sono un problema e mi si tiene a casa, forse ero un problema anche quella volta. E adesso l'aggiornamento del Covid, breve, per vedere un attimo un po' la situazione nelle Marche. In queste ultime 24 ore c'è un decesso da segnalare, un 89enne di Amandola, in provincia di Ferbo. I positivi registrati tra le nuove diagnosi sono 17, di cui 12 nella provincia di Ancona. Nessun caso rilevato invece a Peso Rubino. Negli ospedali della regione i ricoveri sono 56, un dato rimasto invariato rispetto a ieri. Stabile anche il numero dei pazienti in terapia intensiva. Sono 12, mentre calano leggermente i pazienti in semi-intensiva. E adesso invece parliamo del Green Pass. Parliamo del Green Pass perché questa sera vi facciamo ascoltare la dichiarazione di Matteo Giuliani, che è un consigliere dei 5 Stelle nel comune di Fano, che ha deciso di dimettersi dal suo ruolo. Al suo posto torna Giovanni Fontana. E ha deciso di dimettersi perché, ha detto, io sono fortemente contrario al Green Pass. E' contrario alle norme emanate in continuazione dal governo sull'utilizzo del certificato verde. Per questo l'avvocato Matteo Giuliani, presidente di Bene Comune, ha presentato le sue dimissioni dal Consiglio Comunale di Fano. Al suo posto farà ritorno nella CV Cassise Giovanni Fontana, tra i veterani del Movimento 5 Stelle e già consigliere comunale dal 2016 al 2019. Il certificato verde serve solo a costringere i cittadini che legittimamente non vogliono sottoporsi al trattamento sanitario, quindi a vaccinarsi. E impone a questi tutta una serie di limitazioni di diritti costituzionali fondamentali che invece agli altri, che pur anche loro possono infettarsi e infettare, non impone. Quindi si tratta di una discriminazione inammissibile che lede diritti fondamentali, a cominciare dal diritto principale, che è il diritto al lavoro. Ricordo che la Costituzione recita che la Repubblica è fondata sul lavoro, non è fondata sulla salute, non è fondata sullo sviluppo economico, non è fondata sulla cultura, è fondata sul lavoro. Ecco, però perché questa decisione di dimettersi da Consigliere Comunale e non di lasciare semplicemente il Movimento 5 Stelle? Per svolgere la funzione di Consigliere Comunale occorre assoggettarsi e utilizzare il certificato della discriminazione. In questo modo, tra l'altro, si compie un'operazione molto pericolosa e molto grave perché si privano milioni di cittadini che stanno esercitando un diritto di avere rappresentanza democratica. Penso anche, ha aggiunto l'avvocato, che in futuro possa produrre conseguenze impreviste e nocive per l'unità del Paese. Giuliani poi ha detto la sua su chi chiede a qualcuno se sia vaccinato oppure no. Una domanda, secondo il Consigliere Dimissionario, che sta alla base del concetto di discriminazione. Io sono concorde con la risoluzione del Consiglio d'Europa, la 2361 del gennaio di quest'anno, che in piena seconda ondata della pandemia ha espressamente ammonito gli Stati. Ricordo che il Consiglio d'Europa è l'organo che i Paesi europei ci sono dati come organo di indirizzo in materia di tutela dei diritti umani, ha ammonito gli Stati a chiarire ai propri cittadini che la vaccinazione non può essere obbligatoria, che i cittadini non possono essere condizionati in alcun modo, politicamente, socialmente, economicamente, a sottoporsi alla vaccinazione e che in base allo stato di vaccinazione o non vaccinazione non può essere adottata alcuna discriminazione fra i cittadini. Quindi non serve chiedere se un cittadino è vaccinato o non vaccinato, perché se rispondessi sì contribuisco alla discriminazione dei non vaccinati, se rispondessi no farei la stessa cosa. E sull'obbligo del Green Pass oggi è intervenuto anche il direttore generale di Confcommercio Marchenord, Amerigo Varotti, il quale ha parlato di enormi problemi per le imprese dal 15 ottobre. Non è possibile, ha detto Varotti, sostituire il personale che dobbiamo lasciare a casa per la scelta di non vaccinarsi. Le disposizioni danno la possibilità di sostituzioni nelle imprese sotto i 15 dipendenti, ma è una sciocchezza, ha dichiarato perché nessuno nasce imparato, come si dice, e la professionalità dei collaboratori non la si trova così facilmente e nell'immediato. Inoltre per Varotti non si vuole fare a meno del personale che nelle piccole aziende è quasi equiparato ai familiari. È urgente, ha concluso il direttore, allungare la validità dei tamponi da 48 a 72 ore, autorizzare i test fai-da-te nelle imprese, eliminare le sanzioni, ma incentivare l'uso di mascherine e distanziamenti. E a partire dal 15 ottobre, nell'aeroporto di Ancona, il punto dedicato ai tamponi, si sposta dal terminal arrivi al terminal partenze e verrà implementato l'orario in cui sarà possibile effettuare i test. L'obiettivo, si legge in una nota, è quello di andare incontro alle esigenze dei lavoratori che devono rinnovare periodicamente il Green Pass. Il checkpoint sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 17 e la domenica dalle 15 alle 19. Un singolo tampone rapido si pagherà 30 euro, mentre un pacchetto nominativo di 5 test costerà 30 euro. Ad una settimana esatta dalla vittoria, e qui abbiamo cambiato decisamente argomento, alle elezioni comunali, Nicola Barbieri, sindaco di Mondolfo, ha presentato la nuova giunta. Vediamo. La nuova giunta comunale, guidata da Nicola Barbieri, è pronta per mettersi al lavoro. A pochi giorni dalla vittoria schiacciante, che lo ha riconfermato primo cittadino nel comune di Mondolfo, assieme alla lista civica a fare città, il sindaco questa mattina ha presentato i nomi degli assessori che faranno parte della giunta già dal primo consiglio comunale, in programma per il prossimo 21 ottobre. Oggi abbiamo ufficializzato la nuova giunta comunale, che è una giunta nel segno della continuità, quindi ci saranno quattro assessori che già ricoprivano il ruolo nello scorso mandato, più un nuovo innesto, quindi anche nuove energie all'interno della giunta comunale. Poi abbiamo voluto affidare anche ai consiglieri comunali di maggioranza, ad ognuno una specifica delega, quindi seguiranno degli specifici progetti, perché abbiamo bisogno del contributo di tutta la squadra per portare avanti i tanti progetti che abbiamo inserito all'interno del programma amministrativo per continuare a migliorare la città. Riconfermato nel ruolo di vice sindaco, Carlo Diotallevi, mentre Davide Caporaletti mantiene la carica di assessore al turismo. A Raffaele Tinti, neoeletto, va l'assessorato alla viabilità e polizia locale. Alice Andreoni, invece, è assessore alla sanità. Filomena Territiello resta assessore con deleghe ai lavori pubblici. Eletta presidente del Consiglio Comunale, Serena Pennoni, che avrà anche la delega alle pare opportunità. Tra i consiglieri comunali, Even Mattioli avrà la delega alla cultura, mentre Agnese Fuligni, quella alle politiche giovanili. Infine, il sindaco Barbieri mantiene la delega all'urbanistica e al personale. Continuità, proprio perché ci sono dei progetti che non abbiamo avviati, ma che non abbiamo ancora completato. Penso alla scuola media fermi, all'adeguamento sismico della scuola media fermi, i cui lavori devono essere completati entro la fine del prossimo anno. Penso all'ampliamento del cimitero comunale, al restauro del Bastione Sant'Anna, al percorso ciclopedonale che collegherà Centocroci a San Gervasio, all'illuminazione pubblica di Viale Carducci. Quindi ci sono tanti progetti che abbiamo avviato e che nei prossimi mesi concluderemo e alcuni avvieremo proprio nelle prossime settimane. La squadra è una bella squadra, persone competenti, motivate, che hanno un grande entusiasmo e continueremo nel segno di questi cinque anni. E adesso parliamo del nuovo assetto organizzativo della Regione Marche. Sei dipartimenti, tra cui quelli per la salute e il lavoro, più l'ufficio speciale per la ricostruzione. Questa mattina, con un atto di giunta, la Regione Marche si è dotata del nuovo assetto organizzativo che dovrà garantire il perseguimento degli obiettivi di governo definiti nel piano programmatico 2020-2025. Una riforma epocale, così l'ha definita il Presidente Acquaroli, che ha l'obiettivo di rendere l'apparato più semplice, veloce e vicino ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Lavoriamo per ridurre i costi e i tempi della burocrazia, ha precisato il Governatore, e migliorare l'efficacia dell'azione regionale. E adesso lo sport, invece. Parliamo di Alice Pagliarini, campionessa italiana negli 80 metri piani di atletica leggera. Questa giovanissima atleta è stata premiata dall'amministrazione comunale di Fano. Ecco le pista con le fari puntate sulla corsia numero 3 di Alice Pagliarini, che prende il comando, prende ampiamente margine, in questa finale va a vincere nel 9-87. La quindicenne fanese Alice Pagliarini ha conquistato a Parma il titolo di campionessa italiana under 16 negli 80 metri piani. Studentessa dell'Istituto Apolloni di Fano, Alice sabato scorso è stata premiata dall'amministrazione comunale per il grande risultato ottenuto. Ho vinto gli 80 metri piani, cadette, con il tempo di 9.86. e ero molto agitata prima di ripartire, avevo un po' d'ansia, però alla fine è andata bene e quando sono arrivata al traguardo sono scoppiata a piangere per l'emozione, perché ero molto contenta. Era un anno che aspettavo questa vittoria, dato che l'altro anno ero arrivata seconda e quindi mi sono sentita molto felice. È stata, diciamo, una cosa liberatoria perché era passato e è stato molto bello e adesso sono molto contenta perché finalmente questa medaglia d'oro sono riuscita a prenderla. Mi allena mio padre, sì, da sempre. Sono contenta che mi alleni mio padre perché è come lui, è una figura molto importante per me e quindi poter confrontarmi con lui è molto più semplice e mi trovo meglio e lui è fantastico. Poi ad Alice abbiamo chiesto qual è il suo progetto per il futuro. In futuro mi piacerebbe diventare un atleta professionista. Alla premiazione presenti i genitori, il presidente del CONIMARCHE Fabio Luna e Simone Rocchetti del Comitato FIDAL regionale. È un risultato incredibile. Alice, come dice Muhammad Ali, è una farfalla ma punge come un'ape. È veramente incredibile quando è sul campo perché ha un'accelerazione naturale e questo è gratitudine sia del suo sforzo, sia del benessere che porta allo sport, ma anche dell'impegno che in questo caso ha avuto il suo allenatore in quanto il suo papà. È fondamentale, sottolineo in questo caso, il sostegno delle famiglie per l'attività sportiva dei nostri giovani, per avviarli al benessere e quindi cerchiamo di far vincere i nostri ragazzi insieme. Brava Alice, allora adesso apriamo il nostro album di famiglia. Sono tantissimi i nostri telespettatori che ci inviano continuamente foto e segnalazioni di anniversari. Allora lo facciamo sempre in coda al nostro telegiornale. Molto volentieri cominciamo da Edo Neri e Marisa Giommi, che sono residenti a Fano, che ieri hanno festeggiato 57 anni di matrimonio, quindi nozze di azalea. Auguri da tutti i familiari e naturalmente anche da parte nostra. Adesso invece il tempo di annunciarvi il programma che seguirà dopo di noi. In diretta sempre il ritorno di Primo Cittadino, questa nuova edizione, nella quale come sempre i sindaci del territorio saranno a disposizione dei telespettatori, quindi di tutti voi, per rispondere alle domande, ascoltare le vostre proposte e anche qualche critica, perché no. Noi ci fermiamo qui invece, domani mattina ci rivedremo, se lo vorrete, alle 7 con la Rassegna Stampa. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS